Alvano e Romina Power non disperano da ormai 25 anni di poter ritrovare la loro Ilenia Caresa. Alcuni indizi suggeriscono che sia ancora viva.Sono trascorsi quasi 25 anni dalla scomparsa di Ilenia Caresa. Ma a distanza di tutto questo tempo Albano e Romina non si rassegnano e continuano nelle ricerche della loro famiglia, che oggi Dianne ne avrebbe 40. È vero, dicono i due cantanti ed ex-pologi nel salotto del Maurizio Costanzo Sciottante sono state le speculazioni sul destino di Ilenia Caresa dalla metà degli anni apostro con 90 d'oggi, che si è giunto anche a fare stanze di morte qualche tempo fa da parte di Albano, Ma la convinzione che Ilenia si avviene non è mai tramitata. Tutto accadde nella notte del 30 dicembre 1993 a New Orleans, mentre si trovava in una camera d'Alberto con un tale Alexander Massachera, un peccista di Stato, il quale sulla vicenda è stato interrogato più volte insieme ad altri soggetti. Secondo Albano e Romina invece Ilenia avrebbe fatto tutto da sola e da quando è sbannata in un uomo, per una sua scelta a loro vita, si farebbe chiamare Susa, Ilenia Caresa, gli inizi che lasciano sperare. E' una prova contraria, Ilenia è viva, e vale per tante altre ragazze che spariscono all'improvviso in ogni parte del mondo, non riesco a capire come sia possibile che si riescono a fare le cose più impossibili come curare malattie per ieri, mentre invece non si fermino episodi inquietanti con il rapimento di ragazze, specialmente nelle grandi città. A riferire della nuova identità di Ilenia, sarebbe anche un testimone, che alla polizia ha dichiarato di averla incontrata nel 1994, quando lei gli avrebbe chiesto un passaggio. La descrizione lasciata dal test avrebbe diversi punti in comune con l'aspetto della parvisi da giorni, negli ultimi mesi poi il caso è stato riaperto dalle dichiarazioni di un poliziotto in seguito ad una intercettazione telefona. E' viva, abbiamo raccolto nuovi indizi in proposito ma non possiamo dare altri dettagli dal momento che l'indagine è in corso, e chi l'ha visto ha poi diffuso l'identikit di quello che potrebbe essere l'aspetto attuale di Ilenia. .